Popolo rosso nero amici di Youtube, il Milan cede Kerkez alla Z Alkmar per 2 milioni la mia domanda è perché? Perché prendiamo dei giovani? Si parla dei progetti giovani prendiamo dei giovani, li mettiamo in primavera, diciamo che sono forti diventeranno dei grandissimi prospetti, un po' come oggi si fa con l'Aztic è stata fatta la stessa cosa su Kerkez, grande promessa del calcio ungherese per poi non dargli l'opportunità di crescere un po' di anni, non dargli il tempo e cederlo per 2 milioni, ma davvero ci servono questi 2 milioni per poter concludere una cazzo di operazione di mercato? A voi l'ardua sentenza, questo mercato mi sta prosciugando iscrivetevi al canale, pollice in su per i benzi nero e poi ci servono? No!